Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 4 aprile 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Orosco Pariete. Focus su lavoro e finanze. Il programma per la giornata è semplice e preciso, lavorare, guadagnare, spendere, in tre parole il motore dell'economia che ogni tanto rallenta e ogni tanto guizza. Produrre per consumare sembra un paradosso a cui idealmente vi assoggettate malvolentieri, ma è esattamente quello che vi impone il trigono luna-giove-urano scambiato tra segni di terra, guarda caso nel vostro oroscopo attinente a successo e denaro, prima che la bianca signora nel pomeriggio cambi posizione e idea raggiungendo l'ermetico Plutone. Serata collaborativa, con un gruppo di amici condividete ricerche e interessi, lo scambio vi rende cittadini del mondo, con un panorama culturale a 360 grado. Il rapporto nella coppia evolve in modo particolarmente positivo e si concretizza. La consultante se questa è donna, una persona sincera, devota, che sa farsi amare, amabile, dai modi gentili e accattivante. L'amante perfetta, la fidanzata, la moglie, la regina del nostro cuore. Un'amica affidata che ci aiuta a venire a capo di una situazione o ad aiutarci in un momento di difficoltà. Difficoltà di dialogo con il proprio partner, possibili incomprensioni e litigina guato. Siate più semplici e rinnovate i propositi di pazienza. Fate abbastanza attenzione a non lasciarvi prendere dal nervosismo nel momento in cui apprenderete che qualcuno sparla di voi e cerca di screditarvi. Fate esercizi di pazienza e cercate di parlare solo con persone disposte ad ascoltarvi e a darvi una mano. Se negli ultimi tempi le cose con il partner non sono andate per il meglio, cercate di aprirvi al dialogo. Nella vita affettiva lasciatevi guidare dalle emozioni, buttandovi alle spalle dubbi e preoccupazioni. Emozioni in serata che si potrebbero concretizzare in tenerezza o piacevole compagnia con amici. Possibile nuove amicizie molto interessanti che potrebbero stravolgere la vostra vita e i vostri ritmi di vita. Non perdetevi in inutili discorsi, in questo momento nessuno vi capirebbe, piuttosto rafforzate il vostro progetto e date fondo a tutte le vostre forze. Messi alle strette vi renderete conto che in fondo, per evitare certe situazioni di disagio e di imbarazzo, basta davvero prevenirle. Mettete tutto il vostro impegno per riuscire puntuali agli appuntamenti. Se vi sentite in solitudine è solo perché prima del sole c'è sempre un temporale. Guardate lontano, oltre l'orizzonte, nuove amicizie interessanti si prospettano, ma dovete liberarvi di alcuni freni che vi tengono fermi e inammovibili. Si potranno materializzare improvvisamente delle buone prospettive, dovrete però mettere tutto l'impegno possibile per cogliere a volo le occasioni che vi si presenteranno. Marte e il sole, i vostri pianeti nome tutelari, la carica aggressiva e l'io attivo, vitale, sono in felice posizione per il vostro segno, il primo da oggi nel buon vicino segno dei pesci, il secondo in congiunzione proprio col vostro segno. Contate su un bel equilibrio tra energia vitale e fisico che vi accompagna per tutta la giornata permettendovi di gestire piccoli imprevisti e colpi di scena inattesi in ambito familiare. In particolare riuscite a intervenire, con la grinta che vi contraddistingue, in una delicata questione che riguarda il rapporto genitori-figli. Mattinata malmostosa con la luna arietina allo zenit inquadratura al vostro segno. Nulla di interessante sul lavoro e tanto meno in amore, Nettuno e Venere abbiocati in dodicesima casa confondono i sentimenti nascondendoli dietro la foschia, nessun problema di stagionalità, quella dell'anima è sempre attiva. Risveglio istantaneo, quasi sorprendente, nel pomeriggio, col passaggio lunare nell'amico Acquario, abbracciato a Plutone, un amico vi strizza l'occhietto lasciandovi intendere di provare un insolito interesse per voi. Amore ed Eros Sentimenti possessivi, anche in amore, come sul lavoro, cercate sicurezze e lo dimostrate attaccandovi come. Pipistrelli alle chiome dell'amato bene. Solo nel pomeriggio vi trasformate in micini affettuosi e tanto simpatici quando fate le fusa. Sarà difficile, per chi capiti sotto il vostro tiro, resistervi. Perché si innalza il livello del vostro calore umano con i valori fuoco di quest'oggi che vi spingono totalmente nell'abbraccio del partner, fisso o occasionale che sia. E ancora una volta darete prova del vostro slancio, della capacità che avete di incendiare i cuori. Lavoro e denaro Punto caldo della giornata, già il mattino vi scontrate con alcune contrarietà che mettono in dubbio scelte fatte in precedenza. I vostri progetti sembrano destinati ad andare in fumo, una prospettiva che vi manda temporaneamente in tilt. Ma già dal pomeriggio arriva la ripresa, grazie ai colleghi che fanno fronte unito. In ogni caso i progetti e le proposte per la serata saranno tutt'altro che noiosi, dopo il lavoro si prospettano sviluppi interessanti. I vostri capi pretendono troppo da voi? Fateglielo presente con il garbo di cui siete capaci. Siate infatti cauti e prudenti nell'esprimere le vostre dimostranze c'è la possibilità che un forte Plutone, pur in angolo armonico, possa farvi alzare i toni in ufficio, in special modo se festeggiate il vostro compleanno tra il giorno 21 e il 25 del mese marzo. Benessere. Un leggero fastidio ai denti vi ricorda l'appuntamento periodico dal dentista, stavolta siete in ritardo e probabilmente vi sgriderà. Un filo di mal di testa soprattutto per chi se l'è scialata in vacanza fino a stamattina, per poi rientrare di filato al lavoro senza nemmeno passare da casa. Una cosa è certa, il vostro rendimento, scolastico o lavorativo, oggi sarà pari a zero. Meno male che colleghi e compagni vi daranno una mano. Denaro. Se maneggiate soldi sarete oggi protetti dalla fortuna. Giove e Luna, Urano e Plutone si trovano in segni amici e vi promettono un discreto successo di tutte le vostre operazioni. Per lei, vero che a metà settimana la spesa non è una priorità, ma appena rientrati dalle vacanze e con il lavoro riavviato da ieri, a voi sembra inizio settimana, col frigo ancora da riempire. Subito al supermercato a fare provviste. Per lui, lo disperticate da colleghi e superiori vi rialzano l'autostima di un buon palmo e così rivitalizzati dalla Pasqua marinara anche molto fichi. Colore delle emozioni, giallo crema. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 9, finanze, 9, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.